Roberto Torresani, Centro Trasferimento Tecnologico, Unità Sperimentazione e Frutticoltura. Tra le altre cose, qui alle porte aperte, nell'azienda FEM di Denno, si è parlato anche della gestione agronomica delle nuove varietà recentemente introdotte sul territorio, nuove varietà che sicuramente apportano delle difficoltà nella loro gestione, ma anche delle grandi opportunità, e per il quale è importante, tramite prove sperimentali, riuscire a trovare il miglior modo per la loro coltivazione.